adri mi passi la crema solare adri davvero ne ha bisogno non ci sono stazioni di servizio dintorni e le scorte che avevamo in stiva sono finite adri che poi come hai fatto a consumare 25 tubetti in tre ore è buono quel tuo yogurt adri ti prego aiutami non voglio diventare carbone ma alzati da quel dannato lettino non posso ma che significa mi sono messo la crea ovunque ma non avevo calcolato la traspiabilità del telo e la crema è arrivata fino al legno sono incollato al ponte adri ho rubato la nave di crepe ara ho rapito dio l'ho preso in ostaggio lo sbattuto in stiva dopo averlo narcotizzato stiamo scappando da crepe che vuole scuogliarci vivi perché siamo andati sottoterra senza avvertirlo e abbiamo saltato la cena e tu il meglio che riesce a fare che incollarti al ponte e e e e e e Grazie per la visione!